Come ci va? Come si sta? Buonasera, alle 20.30 primo grande appuntamento con il ciclo che Rete 4 dedica a Kevin Costner, il mito degli anni 90, un attore dalla recitazione semplice e spontanea e furi irresistibile, che ha saputo rinverdire con il suo mito il passato cinematografico più glorioso. Aprirà la serie e i film in prima visione tv, Revenge, un triangolo amoroso che fatalmente degenera in spietata violenza. Anthony Quinn e Madeleine Stowe, gli altri protagonisti. Buona serata a tutti. Buonasera, buonasera a tutti a casa. Avete visto come siamo? Eleganti questa sera, tutto per voi. Guardate la film di Angelis, già pronta. Tony Virarelli si sta già preparando a farci tutti sparire, speriamo di no. Voi per carità, rimanete con noi tutta la sera perché ci ritroveremo subito dopo con Tiberio, il coro, le ragazze, le ballerine per divertirsi con gioia, allegria, musica. Dunque mi raccomando allo solito orario, che tu sai. Brava. Si ritrovano tutti qui nel studio per passare una... Una sera! Grazie a tutti. E' AvaPiù, l'unico concentrato con scaglie di sapone naturale. Solo metà dose per un pulito più profondo e una protezione più naturale. AvaPiù. Ehi, farina, facciamo una pizza. Che buona idea! Sveglia, pomodori! Pronti! Dai, mozzarella! Arrivo! Il lievito di birra a mastro fornaio è sempre pronto. E' disidratato. Sciolto in acqua, dà all'impasto Una lievitazione Perfetta. Che forza, ragazzi! Lievito di birra a mastro fornaio pane angeli. Quando ti serve, c'è. Non c'è più caffè. E che cosa dico a mio marito? Non c'è più caffè? Come faccio con gli ospiti? E' sempre la stessa storia. Restano senza caffè, poi che fanno? Hai capito? Pacco doppio, qualità oro, lavazza. Mai più senza caffè. Partecipa all'estrazione di migliaia di servizi Carmencita serie oro. Spedisci in una busta solo 10 stelle o punti che trovi sul retro dei pacchi doppi e quadrupli del tuo caffè, lavazza. Ricorda, più buste spedisci, più possibilità hai di vincere. Abra cadabra. Proprio buoni questi tartellini all'amore. No, non è buono. E' Creme Cuisine, a base vegetale. Così cucino leggero. Ma cosa scrivo sul menu se non... Creme Cuisine, la prima... Vegetale. Gradina fa del nuovo in cucina. Eh sì, una macchia si vede. E si vede che la miace la toglie. I germi invece non si vedono a occhio nudo. Ma guardate, la candeggina ace li toglie lo stesso. Via i germi qui, via i germi qui e anche qui, dappertutto, ogni giorno. Candeggina ace, via i germi, benvenuta ai geni. E in più, ace usa anche bottiglie con plastica riciclata, un aiuto per l'ambiente. Questa ace, più ne sai e più la usi. Io vado a Genova per mettere in scena il richiamo magico del mare e dell'avventura in un teatro aperto che si riflette nello specchio dell'acqua. L'esposizione internazionale di Genova dal 15 maggio al 15 agosto. Le donne attive, vivaci, frizzanti. Le donne d'oggi leggono Donna Moderna. Donna Moderna ti somiglia, sorride, è attenta, curiosa. Segue la moda, i figli, il lavoro, la salute, la bellezza, la vita. Proprio una Donna Moderna come te. Questa settimana è il regalo, il libro anti-stress. Tutto quello che bisogna sapere per vivere meglio. Donna Moderna, il settimanale femminile più venduto. Ecco il motivo di una riparazione così costosa. Quale? L'acqua dura ha formato il calcare e la lavatrice si è guastata. Per questo è meglio usare Calfort ad ogni lavaggio. Nulla protegge meglio contro il calcare. Bene. Con Calfort la lavatrice vive di più. Tutte le sere alle 20 e 30, Rete 4 stringe un'amicizia. Mercoledì italiano, un nuovo ciclo di pellicola dedicate al nostro cinema. Con noi, in questo appuntamento, Fernandel e Gino Cervi, in Don Camillo. Per i grandi film del giovedì, Non guardarmi, non ti sento. Con Jim Wilder e Richard Trier. Venerdì, Manuela. L'appuntamento con Grecia Colmenares. Sabato, qualcuno ha ingannato il tenente Colombo. Su Rete 4 ritorna Peter Falke, con una nuova serie di film in prima visione tv. Domenica, La mia seconda madre. Ventisettesima puntata. Lunedì, Dynasty, ultimo atto. Si conclude così la saga di due grandi famiglie americane. Martedì, per il ciclo Kevin Costner, il mito degli anni 90, senza via di scalpo. Tutte le sere alle 20 e 30, stringe un'amicizia. Stai su Rete 4. Più fresco, più efficace. Acqua Fresh. Acqua Fresh presenta questo film.